Come abbiamo già potuto sperimentare nel video precedente, di tecniche di navigazione con Flutter ne esistono diverse e noi vorremmo focalizzare la nostra attenzione su queste tre. La prima è quella che più liscia non prevede la creazione di roots, la seconda è quella che invece rende disponibile a Material App un array di roots e di queste due abbiamo visto esempi nel video precedente e la terza che lavora fornendo a Material App una funzione che genera la ruta appropriata. In questo video mostreremo tre esempi, uno per ciascun tipo di navigazione, passando un valore allo screen richiamato e ricevendone uno di ritorno. La base di lavoro è questo modellino di app, molto semplice, che al momento prevede soltanto questo container nel body, con il text home page. Tutti elementi, oserei quasi dire, triti e ritriti ormai. Siamo sulla home page screen. Come screen destinazione, da includere sempre in questo modello di base col quale sviluppare i tre esempi, aggiungiamo negli screen il file page1screen. Ecco il suo codice, è quasi un clone della home page. Notate però la presenza di un'icona sulla app bar, che è, come abbiamo già discusso nel video precedente, la freccia per tornare indietro, che non sempre apparirebbe in automatico. Quando arriveremo su questa seconda pagina navigando, ce ne accorgeremo perché lo sfondo sarà verde e la scritta invece di home page, page1. Allora, metodo 1, cioè usare direttamente il metodo pushTNavigator, passando un valore, sarà una semplice stringa, alla home page1, per vedersi può restituire di ritorno un'altra stringa. Diciamo che la stringa restituita servirà per andare a modificare al ritorno il testo che apparne nel centro della home page screen, per cui leghiamo il suo valore a una variabile di stato, che potremmo chiamare valore restituito return value, che poi naturalmente andremo ad aggiungere qui e in partenza sarà proprio home page. L'apertura della pagina e la cattura e gestione del valore restituito la faremo fare a una funzione che potremmo richiamare nell'home press della floating action button, che chiameremo getScreenValue, a cui dobbiamo passare, l'abbiamo già visto anche l'altra volta, il context. Questo in fondo è un ripassino. Mettiamoci qui per la getScreenValue. Sappiamo già dal video precedente che dobbiamo catturare così il valore. Sappiamo che una stringa, stringValue, è un future, dal che l'utilizzo di await, cioè aspetta e risultato, in modalità asincrona. Ecco qui la sync con cui dobbiamo etichettare la funzione. Richiamando il metodo push-navigator, passando il context e creando al volo la root destinazione, il tipo material page, specificando nel build la funzione che riceve nel contesto, restituisce un widget tipo page1screen. È in rosso perché manca naturalmente il solito import. Page1screen. Ricorderete che bisogna far uso anche dei settings per specificare il valore che si vuole passare alla pagina richiamata. Lo facciamo con questo costruttore, root settings, assegnando semplicemente la stringa test parametro al parametro arguments. Viene attivato uno screen modale, sarà quindi necessario chiuderlo prima di poter continuare a interagire con la home page. Col value, il future che ora si è concretizzato, andremo ad assegnare con questa espressione condizionale un valore alla variabile dello stato, return value. Questo operatore, dopo i punti di domanda, è specifico per gestire il caso che value sia nulla. Se value ha un valore diverso da null, allora viene assegnato alla variabile. Altrimenti, alla stessa viene assegnato il valore dell'espressione che segue il check null operator. Chiaramente è una forma compatta per un qualcosa di questo tipo. Se value è uguale a null, allora return value assegna no data, altrimenti assegna value. E lo possiamo già sperimentare questo meccanismo, perché non avendo ancora sistemato le cose in page1.screen, dovremmo proprio ricevere il valore null. Proviamo. Siamo sulla pagina 1, torniamo indietro, no data. Passiamo allora al codice di page1.screen. Direi che la prima cosa da fare è recuperare il dato passato dalla home page. Sappiamo che è una stringa. E recupero? Dobbiamo arrivare a questi settings e poi ad arguments. Cioè, non propriamente a questi come parametri, ma alle property del material page root in cui saranno stati depositati questi valori, ovvio. Il context di page1.screen in cui siamo è contenuto all'interno di quello della home page che ci ha creato. Possiamo allora utilizzare modalroot.off. Quindi vogliamo accedere alla root del nostro context, accedere ai settings e in particolare agli arguments. Ho avuto già modo di spiegare in un video precedente che usare modalroot implementata da material page root e cupertino page root consente di gestire due, consente di gestire codice per due piattaforme con la stessa istruzione, modalroot. col parametro potremmo gestirci il title dell'appbar. Proviamo. Ci siamo. Test parametro, che è proprio la stringa inviata come parametro. Adesso restituziamo il favore all'home page, cioè un valore. Aggiungiamo quindi una action. E nell'home press comandiamo su il pop, ma aggiungendo anche il valore da restituire. Contact virgola espressione. Provo. Valore confermato. Data da page one. Abbiamo voluto riproporre un esempio bello pulito, tranquillo, di quei meccanismi che abbiamo visto battagliando un po' di più nel video precedente, perché era stato organizzato anche in chiave evolutiva e esplorativa. Questa seconda parte è un po' un cookbook, un ricettario, da cui pescare lo schema giusto a seconda della situazione. E infatti per non rendere, è vero che sono solo commenti, più difficoltosa la lettura proponendo la seconda tecnica. Facciamo una cosa. Nello zip che potete sgaricare troverete proprio tre page uno screen e tre home page screen. Chiamerò magari A, B, E, C o 1, 2, 3. Adesso vedo che pasticcio riuscirò a combinare come al solito. Seconda tecnica, rendere disponibile, partendo da main dart, un array di root e tolgo il parametro home perché sarà sostituito anch'esso da una root. Volendo, e questa è una piccola differenza con quanto visto nel video precedente, potremmo anche impostare a modi home una root iniziale. Il valore default dovrebbe essere proprio quello che stiamo per impostare adesso, ecco perché di solito funziona comunque. Initial root, sotto il parametro con le due root, lo slash, ricorderete sono implementate come una mappa che associa ad una chiave, qui stringa, una funzione che costruisce un widget, un widget builder. La chiave della prima root è il simbolo dello slash, la funzione restituisce una home page screen creata al volo, similmente per la seconda root che porta però al page uno screen. Notate come si abbia bisogno anche della definizione di page uno, da cui il relativo import. E prima di proseguire, un piccolo miglioramento operativo per commettere meno errori. Spesso ci ritroveremmo nelle altre pagine a dover richiamare queste root letterali e ci vuole un niente a sbagliare. Ricorderete gli errorini che ho commesso anch'io nel video precedente. Una tecnica che cerca di tenere sotto controllo questo problema è quella che prevede di aggiungere delle stringhe statiche a ciascuna screen. Cominciamo con la home page, screen, static, si diceva per poter richiamare facilmente, nome root, all'inglese root name e qui lo slash. Poi in page uno ad aggiungere la sua root name. Andiamo ora ad aggiornare la main.dart di conseguenza, dove prima avevamo indicato delle costanti letterali stringa, qui in initial root ad esempio. Andiamo a richiamare la root name corrispondente, home page screen, qui e anche qui dove viene definita la root. E similmente per la root associata alla page uno screen. E adesso potremo usarle anche nei comandi che chiamano in causa il navighetto. Ecco come si trasforma il comando, da push a push named, cioè utilizzando le root con nome associato. Qui dobbiamo lasciare dynamic, non possiamo cioè essere più rigorosi rispetto all'attivizzazione, come invece vedremo poi con la terza tecnica. Perché la rete delle root definite fa in modo che queste ultime si sono create partendo dalla classe page root dynamic. I parametri sono intuitivi. Il contesto, la root destinazione e il parametro da passare alla page uno screen. La gestione del valore restituito da page uno screen poi invece non cambia. Così come l'intero codice della page uno punto screen. Va già bene. Rilancio per fare un piccolo test. Ci aspettiamo ovviamente, più nemmeno, quello che già succedeva con la prima tecnica che abbiamo esaminato. Test parametro data da page uno. Benissimo. Da notare che con questo sistema di routing il path che andiamo ad associare ad ogni root può essere anche complesso. Ad esempio, slash page one, slash sub page one, eccetera. Proprio come se fosse un path di un reale file system. Infine, tra i tanti metodi disponibili in navigator, ricordiamo in passant il pop and push name che in pratica esegue un pop abbandonando lo screen su cui si è ed eseguendo contestualmente anche un push name sullo stesso context. E il pop until che invoca ripetutamente il pop fino a che il valore ritornato sia true e pop ritorna true o false a seconda che abbia raggiunto il path root o meno. Basta approfondire ulteriormente, qui non sarebbe il caso. Passiamo invece alla terza ed ultima tecnica che esamineremo in questo video. Questa terza tecnica non prevede l'utilizzo dell'array di root, che quindi possiamo proprio togliere dal main e al suo posto, come valore del parametro on generate root, una funzione che restituisce una material page root scelta in base al nome della root richiesta. In pratica, quando qui nella home page screen, con lo stesso comando di prima, si richiamerà questa root, non trovando la mappa delle root, non userà questo page uno screen punto root name come chiave d'accesso, ma passerà tramite un oggetto settings il nome della root richiesta alla funzione di callback indicata qui. Questa sarà invocata in automatico e la material page root che restituisce sarà automaticamente posta sullo stack degli screen attivi. Nei settings troveremo il nome della root che andiamo a discriminare con questo switch, così da generare in screen il giusto widget a seconda della root. Se il name è uguale all'home page screen punto root name, vuol dire che dobbiamo andare a quella pagina, home page screen, e perciò il widget generato è home page screen, semplicemente se la root corrisponde a quella di page uno screen. Screen viene poi utilizzato qui nel return per costruire al volo questa material page root dove lo screen è utilizzato nella funzione del parametro builder. L'effetto è ancora quello di prima, qual è la differenza? Che richiamando una funzione c'è molto più spazio per aggiungere una nostra logica di controllo, operazioni che devono essere fatte prima di richiamare una certa screen, verifiche sull'autenticazione, sui diritti, e tutta la logica è concentrata qua. Provo e tutto funziona come prima. Nessun problema, anzi è auspicabile, se la funzione di on generate root dovesse diventare un po' troppo complessa, potremmo anche nuclearla e separarla in un suo sorgente autonomo. Facciamolo. Abbiamo giusto la cartella util, se ricorderete, aggiungiamoci il file router dart, dove abbiamo trasportato la funzione come metodo statico di questa classe astratta, perché non avrebbe senso poi stanziare oggetti, cogliendo il volo la possibilità di specificare anche in modo più preciso la tipizzazione, cosa che si traduce nel potere indicare in modo più preciso quando si invoca la push name il tipo qua, mettere proprio string, corrispondente al valore atteso per la future. Beh, abbiamo anche preferito trasportare il return all'interno di ogni case per mantenere più separate le cose. Dunque, ho fatto un controllino anche sugli import, qua dal main ad occhio è sparito quello che prima era necessario per raggiungere page 1 screen, cioè l'import di page 1 screen. Poi abbiamo aggiunto l'import di router, per poter sostituire, qua abbiamo commentato il codice ovviamente, il valore del parametro on generate root, con questa funzione che richiama il metodo statico generate root di router. Tocco finale, prima di chiudere il video, abbiamo anche la possibilità di indicare una specie di jolly, e c'è uno screen che va preparato, qui l'abbiamo chiamato arrow screen, che potrebbe visualizzare un messaggio tipo pagina non trovata, a cui si navigherà quando sarà fornita una root sconosciuta, on unknown root. Ora lo commento. Test finale. Va bene, questo chiude appunto il video. Nel prossimo vedremo come salvare sul storage interno del cellulare, in un formato semplice, testuale, le nostre informazioni. Ci occuperemo insomma di leggere o scrivere un file di testo. A risentirci.